Ciao ragazzi, tutto bene? Ma mi sento così, come? VIVA! Na 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 Come posso esserle utile? Tiziana, sì, la segretaria Un attimo sono impegnato alla testa per aria Una processionaria Ciao nonna, io sono qui con un po' di persone che vorrebbero salutarti Vado una bomba! Pomeriggio sul divano Netflix Mentre mi rilasso dentro un paio di beats Sono sotto sopra tipo Stranger Things Marta da Tato!